Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Tanti temi e soprattutto tanti aiuti che arrivano a famiglie e aziende, ma vediamo nel dettaglio qual è il sommario di questo nostro appuntamento. Parleremo appunto di come indirizzare i ristori alle aziende e alle famiglie con due risoluzioni approvate all'unanimità. E poi sono pronti i bandi per i ristori sia ai maestri di sci che oltretutto alle proloco. E poi si parla di una valorizzazione importante, quella del patrimonio culturale e soprattutto delle mura cittadine. Allora, come iniziare e indirizzare soprattutto i ristori alle aziende e alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi causata dalla pandemia? Due risoluzioni approvate dal Consiglio regionale all'unanimità che definiscono quindi dettagliatamente quelle che sono le priorità. La giunta regionale, peraltro, è chiamata a attivarsi nei confronti del governo affinché metta in atto tutte le misure per sostenere quelli che sono i settori maggiormente colpiti. In particolare si chiede il ricorso con modalità semplificata. Tutti i fondi europei 2014-2020 ancora non utilizzati dall'Italia. E poi c'è un invito, un invito che arriva dal Consiglio regionale della Toscana a sollecitare le pubbliche amministrazioni, a saldare quelli che sono i debiti pregressi con imprese e professionisti, a valutare le possibilità di concedere una monatoria su mutui bancari per le famiglie, a prevedere nei successivi interventi di ristoro per le attività economiche danneggiate, un parametro maggiormente corrispondente all'effettiva perdita di fatturato. È stata una discussione che ha visto l'unanimità e il lavoro di tutto il Consiglio regionale nel sottolineare quelle che sono le categorie che hanno bisogno d'aiuto. Ma ascoltiamo insieme. Abbiamo costruito due atti approvati all'unanimità. Uno in particolare che impegna la Giunta, ma anche la Conferenza Stato-Regioni, ad utilizzare tutte le risorse possibili, sia europee, quindi quelle avanzate dagli scorsi bandi europei, sia il recovery fund e quindi tutte le misure possibili anche nel caso di sgravi fiscali e quindi con un impegno sia per le Regioni e a cascata sui Comuni, ovviamente previa autorizzazione del Governo e compensazione del Governo. Quindi abbiamo cercato di impostare un ragionamento generale su tutte le possibili fonti di finanziamento, dividendo in due la parte dei ristori che spetta principalmente al Governo e la parte della ripartenza che spetta prevalentemente alla Regione. Nel secondo atto abbiamo invece cercato di individuare, facendo un grande lavoro con tutte le mozioni che erano arrivate nello scorso Consiglio, le categorie che hanno sofferto di più. L'idea era proprio quella di riuscire a fare un lavoro che andasse a dare una mano alle aziende, alle imprese, alle piccolissime imprese che non avevano avuto nessun tipo di ristoro. E quindi la Regione con i finanziamenti, 19 milioni e mezzo del Governo che abbiamo avuto a dicembre, avendo avuto un avanzo di circa 8 milioni, ha dato un indirizzo forte alla Giunta, condiviso con l'assessore, che è quello di partire a dare questi aiuti a coloro che siano rimasti fuori, principalmente i ristoratori e tutta la filiera del turismo, quindi abbassando la percentuale della perdita del fatturato, ovviamente in maniera proporzionata, e poi a cascata tutta la filiera del turismo, dalle agenzie alle scuole d'italiano per stranieri e molte altre categorie. E monitoreremo quello che accadrà di mese in mese, anche perché la situazione può cambiare, chiederemo al Governo di inserire altre risorse e sarà nostra cura vigilare affinché si riesca a essere il più capillari possibili. Ovviamente avremo bisogno di tante risorse in più che non abbiamo, ma quelle che abbiamo cerchiamo di spendere nella maniera più equa possibile. Questa necessità nasce ovviamente dalla volontà condivisa, anche a dimostrazione che ogni tanto si può anche lavorare insieme e di riportare in commissione alcune mozioni di tutti i partiti che riguardavano tutte quelle aziende e quelle attività che hanno bisogno e che hanno subito grossi danni nel periodo della pandemia. Siamo riusciti a portare tramite un nostro atto la riformulazione di quel bando per i ristoratori, per i bar, che prevedeva il calo del fatturato di almeno il 40% per poter accedere. L'abbiamo spostato al 30% proprio per consentire a queste categorie che sono tra le più pesantemente colpite di poter ricevere qualche aiuto anche dalla Regione. E poi abbiamo sollevato i grandi temi anche da portare al Governo, come per esempio il tema degli albergatori. Sappiamo benissimo che gli alberghi hanno bisogno di fondi strutturali per sopravvivere, perché la tenuta, anche tutto il comparto turistico è fondamentale se pensiamo a un futuro della nostra Toscana. Abbiamo sollevato temi come i benzinai, come anche altre categorie, come quelle del fitness, delle palestre, che sono purtroppo in ginocchio. Quindi abbiamo portato volentieri i nostri atti in commissione perché ne uscisse un atto forte e unitario che venisse trattato da tutto il Consiglio regionale e che fosse anche condiviso. Abbiamo chiesto in primis ovviamente di dare risposta a quelle realtà che sono in zona rossa, nello stesso tempo a tutte queste altre attività. Siccome la Regione può ancora disporre di 8 milioni di euro di risorse date dal Governo, per quello che è nostra competenza abbiamo chiesto su questo atto che venissero dati questi ristori. Per il resto abbiamo fatto degli atti nei confronti del Governo di sostegno a queste attività perché possano essere prese in considerazione nelle prossime settimane. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle siamo riusciti a far inserire anche un contributo per le scuole di lingua e cultura italiana che sono in particolare sofferenza proprio perché mancano gli studenti ovviamente. Noi come Forza Italia siamo partiti da un punto fermo però su quel decreto ristori che erano stati istanziati dei milioni di euro per l'oreca cioè per la ristorazione, per la somministrazione, per la ristorazione, per i bar, per tutta una filiera che riguardava appunto l'oreca. Quei soldi lì devono rimanere in quel comparto. Poi abbiamo chiesto che il Governo stanzi ulteriori risorse per aiutare alcuni comparti che sono estremamente colpiti, che non sono stati tenuti in considerazione dalla Regione, che hanno avuto pochissimo dallo Stato e quindi abbiamo bisogno di mettere un'invenzione di danaro fresco nelle casse delle nostre aziende. Penso ai tassisti, penso agli ambulanti, penso ai mercati fieristi, penso agli alberghi, penso a tutto ciò che ruota intorno al turismo e mi sento di dire, l'ho detto anche in aula, che la Toscana non è tutta uguale. Noi abbiamo bisogno di fare un salto di qualità anche nella gestione delle risorse e soprattutto come spendiamo le risorse a chi le diamo. È sicuramente una risoluzione importante. Siamo lieti di aver potuto avere questa approvazione di carattere generale di tutte le forze politiche. Quello che però risulta ancora più importante è che a cadenza mensile vogliamo fare in modo e in maniera che quello che abbiamo disciplinato oggi venga chiaramente seguito. Quindi faremo in modo che con un monitoraggio mensile sia possibile anche attraverso di voi informare le categorie di quelli che sono gli impegni presi dal Consiglio regionale. Parliamo ancora di ristori e soprattutto il Consiglio regionale della Toscana che attiva i ristori per maestri di sci e per le proloco. Duramente colpiti dalla crisi economica della conseguente, peraltro, pandemia. Il provvedimento è frutto dell'iniziativa dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea Toscana, reso possibile grazie a risparmi conseguiti dal bilancio del Consiglio regionale. Noi però cerchiamo di porre l'attenzione anche alla problematica dei maestri di sci e lo facciamo perché è stata singolare ma alquanto efficace l'esternazione del Consigliere regionale Diego Petrucci, ex sindaco di Abitone e Quotigliano davanti alle nostre telecamere durante il Consiglio regionale dello scorso 24 febbraio. e partiremo proprio da questo per poi arrivare alla presentazione di questo bando che va in aiuto anche proprio nello specifico ai maestri di sci. La Toscana è stata la prima a pensare e proporre e realizzare proprio un intervento dedicato ai maestri di sci. Vediamo insieme. La montagna ha bisogno di aiuto perché per tantissime persone, per migliaia di persone lo sci è un divertimento ma per migliaia di lavoratrici e di lavoratori non solo è l'unica possibilità di lavorare ma è anche l'unica possibilità di continuare a vivere in montagna perché chiaramente intorno all'industria dello sci ci sono posti di lavoro che altrimenti persone non avrebbero altra possibilità di occupazione. Noi abbiamo fatto come Fratelli d'Italia sabato scorso un flash mob davanti all'impianto di risalita di tutta Italia, anche davanti all'impianto di risalita di Abitone oggi qui in Consiglio regionale per chiedere di mantenere l'attenzione forte e la lente di ingrandimento aperta su questo settore strategico che coinvolge tantissime migliaia di imprese sia a livello regionale che a livello nazionale. Un anno difficile, tremendamente difficile per gli operatori del mondo della neve, della montagna. Noi abbiamo provato a fare la nostra parte, una piccola, piccolissima parte mettendo a disposizione le risorse derivano dai risparmi della politica l'abbiamo fatto in pochi mesi dalla nostra elezione in ufficio di presidenza in maniera unanime tutte le forze politiche dopo aver sostenuto nel passato le associazioni sportive dopo aver sostenuto le guide turistiche con il risparmio di un milione e mezzo di euro vogliamo sostenere il mondo della cultura, le proloco e in questa specifica situazione anche gli operatori e i maestri di sci sappiamo che stanno vivendo un periodo difficile e questo bando permetterà a loro di avere un piccolo ristoro ma fino a un massimo di 800 euro le domande potranno essere presentate entro il 15 di marzo per quanto riguarda i maestri di sci entro il 26 di marzo per quanto riguarda le proloco insomma è un modo per essere vicini a chi soffre di più abbiamo sempre detto che il Consiglio regionale deve essere il luogo per dare risposte agli ultimi a chi non ce la fa, a chi è più in difficoltà e in questo caso con i risparmi derivanti da minori costi e alla politica vogliamo dare risposte a qualcuna di queste categorie non appena ci sarà anche il consuntivo del bilancio utilizzeremo altre risorse che abbiamo a disposizione per sostenere altre categorie in difficoltà un ristoro importante per una categoria i maestri di sci che io ho voluto venisse posizionata al centro dell'attività del Consiglio regionale sono donne e uomini che vivono in montagna persone che integrano gran parte delle loro attività lavorative con questa attività insegnare a sciare è un mestiere non hanno mai potuto lavorare nonostante abbia nevicato tantissimo il Covid ha portato via a loro una stagione serviva una misura economica a sostegno di questa categoria che evidentemente più di altri ha sofferto molte volte dimenticata in ambito nazionale bene che la Regione Toscana e in questo caso il Consiglio regionale mediante delle risorse risparmiate per altre funzioni abbia trovato l'opportunità di consentire a queste donne e a questi uomini di fare una domanda di avere un ristoro che arriverà nelle prossime settimane adesso il bando è aperto quindi abbiamo mantenuto un impegno e mantenuto una promessa che a suo tempo avevo fatto e mi fa piacere che i colleghi di Ufficio di Presidenza abbiano accolto questa proposta la stagione non è mai partita quindi il maestro di sci da tantissimo tempo da marzo l'anno scorso che non percepisce reddito per sopravvivere quindi ringraziamo la Regione Toscana di questo contributo perché almeno attenziona il problema chiaramente non è una risoluzione generale globale ma è un'attenzione che accogliamo di buon occhio e quindi ringraziamo tutti con l'auspicio che ovviamente si possa iniziare un percorso anche di rinascere tutta la categoria della montagna e delle persone appunto che in essa vivono due leggi due leggi per valorizzare il patrimonio storico degli enti locali in Toscana sono state approvate dal recente Consiglio regionale i provvedimenti frutto della rivisitazione di testi esistenti effettuata dalla Commissione istruzione, formazione, beni e attività culturali sono stati approvati con voto favorevole all'unanimità in modo particolare si cerca di tutelare e valorizzare quelle che sono le città murate ovvero le nostre splendide mura le mura antiche delle nostre città è una qualità diciamo delle nostre città noi siamo abituati a pensare alle città cinte da mura ma non è una cosa normale in tutto il mondo è davvero una qualità che dà identità al nostro patrimonio culturale e credo che si prosegua in una tradizione perché è una legge di Consiglio regionale che diventa invece una legge di giunta incardinata nel bilancio triennale dell'ente quindi si finanzieranno gli interventi dei comuni che sono volti a consolidare valorizzare consentire la fruizione di elementi di scinte murari o di fortificazione delle città Città murate è un'iniziativa che viene dal passato dalla vecchia esperienza del Consiglio regionale abbiamo voluto strutturare una norma che in questo caso una legge che viaggia con oltre due milioni di euro di finanziamento potranno essere richiesti da quei comuni che hanno una conformazione architettonica tale da preservare e conservare le loro mura le mura nelle città toscane sono un vanto un premio una bellezza di carattere storico e architettonico da tutelare in questo caso la legge della regione toscana dà una priorità a quei comuni che chiederanno di fare interventi qualora hanno un'azione una misura diretta qualora appunto le sovraintendenze non sono competenti rispetto anche alla proprietà delle mura stesse un grande passo avanti sulle città murate lo dico non soltanto da cittadino lucchese ma anche montecarlese finalmente un testo che va a predisporre anche tutta una serie di finanziamenti sicuramente importanti ma che chiederemo di poter ampliare per le prossime annualità per fare anche qui dare risposta alle molte amministrazioni e alle molte comunità che trovano i loro borghi più delle volte circondati da cinta murarie sulla cui complessità di intervento abbiamo molto discusso e dove oggi troviamo un punto di partenza la possibilità di intervenire con fondi adeguati che crederemo che siano incrementati appunto nei prossimi anni per quelle che sono tutte le attività di recupero e di valorizzazione vogliamo tutti in questo momento le stesse cose in questo momento di crisi cerchiamo di avere un senso di responsabilità diciamo generale la tutela delle nostre città storiche è un patrimonio importantissimo per la regione toscana e in questa fattispecie la tutela delle mura storiche è un elemento che ci distingue sopra ogni altra caratteristica ci sono già città in toscana che hanno potuto beneficiare di questi contributi è particolarmente importante l'approvazione all'unanimità perché è un segnale proprio di interesse per la questione certo occorre mappare il nostro patrimonio occorre considerare effettivamente quale sia lo sforzo che occorrebbe fare per riportare ecco il più possibile in condizioni adeguate questo straordinario e bene che appunto sono le nostre mura di città però è anche un bel segnale continuare in questa direzione e si conclude l'appuntamento con Dentro il Consiglio di questa settimana per tutti gli aggiornamenti le informazioni vi lo ricordo il sito www.consiglio.regione.toscana.it io vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto come sempre qua tra sette giorni Dentro il Consiglio e vi aspetto